Allora, ciao Paolo, oggi presentiamo i 2004, Disco, Rossi, Barzone e Ragusa. La partita è andata bene, abbiamo vinto 5-1 e ora lascio la parola a loro. Vai Disco, di la tua. Allora, è stata una partita in cui all'inizio eravamo un po' sotto tono, però con il tempo abbiamo preso i ritmi e abbiamo capito come giocarla, come fregarli, siamo riusciti a fare quello gol. Per me è niente, è stata una partita alla fine. Cinque gol. Vai Rossi, che arriva da Magliugnores, prima partita, esordito. Qua il Tussamo è stata una bella partita, principalmente dominato da noi, soprattutto nel secondo tempo. Barzone. La partita è andata bene, sono partito in testa. L'avversario era vignoso, non eravamo superiori sulla carta, l'abbiamo dimostrato. Portiamo a casa il risultato, tra punti. Paolo, ringraziamo il chase di Franco Bobba e tutto lo staff che inizio è partita, abbiamo redditato un minuto al mio ragazzo, perché è mancato nove mesi lì e gli ha fatto, quindi l'abbiamo venuto a ricordare. Ci vediamo alla prossima. Grazie.